eh ti abbraccia ma ti fa fare un mazzo eh eh mi rompi i coglioni insomma giro in giro poi ti riesco a scavo via per forza per forza neanche l'accetto per forza neanche l'accetto per forza adesso non ce l'ha fatta no ha bisogno allora questa siglomincia fa le forze in Sardegna poi orse va dappertutto si fa il pagliotto a Legnano con lui a San Domenico mi comporto bene eh dai dai che la responsabilità dell'altra volta c'è appunto un punto colpe tu dirò subito io ha sempre colpa lui sempre a prescindere come va bene dai che anno quest'anno anno passato l'hai fatto a Ratta la notte no le notte a luglio con il mio ma è la prima volta come sta la sensazione bella eh per forza bella bella eh emozionante si che il buo come è stato lì è bello è bello no si molto bello i babbo e mamma e Dio ormai sono abituati ormai sono abituati eh beh ebbè babbo e mamma hanno saputo mai quando venivano battere un po' nata al figliolo no vabbè già sono tranquilli dai quindi quest'anno facciamo la provaccia a Legnano povero forse in provincia in Sardegna c'è la fai che scappare sì Sardegna è doppio che è casa vita eh sì sì dai allora anche lui poi prima riprendiamo un po come il tuo ragazzo come è, lo vedi, è carino no lo abbiamo più il bellino no è lo meglio il carino che abbiamo a Siena è lavoratore lavoratore.. l' angra di Kalbi ai donne si? facciamo un cincimento? no no feliceamente fidanzato puoi dirlo eh chilinanza si ma qua ce l'hai? no sta studiando lontano in Irlanda in Irlanda come in Irlanda ma è sarda si si del mio paese e sta in Irlanda a studiare studia che più bravi sei allora sicuramente in Irlanda perché studia in Irlanda? fa la ragazza alla pari studia a parlare inglese ci manderà giù qualche puro sanguaretto? io prima devo imparare l'italiano bene verrà anche l'inglese ora lo mandiamo alle altre ci facciamo mandare giù un puro sangue va bene ok l'acaduto e poi facciamo due acchele quando arriva che corri ne vinciamo a che corsa quest'anno si bene bocca al luparo